Buongiorno a tutti, oggi un breve video di aggiornamento sul Nitrofosca Super dopo un mese esatto dalla sua prima applicazione e una piccola disavventura finale. Ci eravamo lasciati quattro settimane fa più o meno con alcuni dubbi legati alla modalità di cessione di questo prodotto, che come ripeto non nasce per l'utilizzo specifico nel prato ma per la concimazione di piante da frutto e ortaggi. Per chi fosse interessato vi invito a recuperare il video integrale tramite il link in sovrimpressione. Iniziamo subito con il controllare i grani che avevo posto in evidenza sotto la bandierina. Come possiamo vedere già dopo quattro settimane non ne rimane più traccia nel prato. Ora andiamo invece a controllare degli altri grani che avevo distribuito nei pomodori, in quello che sarebbe il suo utilizzo principale, per vedere come si è comportato anche in quella situazione. Vedendo il pulviscolo lasciato nell'orto possiamo ipotizzare che lo stesso sarà presente anche tra le radici del prato e che quindi continuerà a nutrirlo per ancora un po' di tempo, all'incirca diciamo un paio di settimane. Passate le quali gli elementi nutritivi non svaniranno nel nulla, ma ridotti ormai alla dimensione di microparticelle inizieranno a lavorare ad un livello più basso, essendo appunto progettati per raggiungere le radici delle piante da frutto che affondano in profondità, mentre perderemo l'effetto sulle radici dell'erba che occupano soltanto lo strato iniziale del terreno. Possiamo quindi quantificare la durata effettiva nel prato in 6-7 settimane, che lo pongono in una categoria intermedia tra un trattamento liquido a pronto effetto ed un granulare a lenta cessione. Diciamo che abbiamo scoperto una categoria nuova, un granulare a pronto effetto. Passiamo ora a valutare i risultati sul prato, che grazie a questo rapido scioglimento dei grani non hanno tardato a manifestarsi. Il prato ha continuato a vegetare abbondantemente ed anche il colore e densità dell'erba sono migliorati. Risultati li potete osservare anche nei precedenti video che ho realizzato, dove è ben chiara la differenza tra la situazione di partenza e quella attuale. Ovviamente queste sono le mie personalissime considerazioni basate su quanto ho riscontrato sul mio prato, in un utilizzo diciamo improprio di questo concime. Fatemi sapere le vostre nei commenti qui sotto se pensate che ne valga la pena visto il prezzo vantaggioso o preferite spendere qualcosa in più ma andare sul sicuro con prodotti specificatamente studiati per questo utilizzo. Concludo con una piccola disavventura. Per chi si stesse chiedendo se questo prodotto provoca bruciature nel prato rispondo sì, usato impropriamente provoca bruciature nel prato. Ma vi spiego meglio cosa è successo. Nel finale del precedente video del nitrofosca si vede mio figlio scarrozzare il sacco di concime in giro per il prato con il suo piccolo trattorino. A lui piace molto aiutarmi in giardino e quindi gliel'ho caricato nel rimorchio. Veramente ero convinto che visto il peso elevato non si sarebbe mosso ed invece è partito senza problemi. Fin quando gira gira il rimorchio si è staccato ed il sacco di concime è caduto a terra. L'avevo chiuso con dello scoccio ma visto il colpo se ne è liberato parecchio in una piccola zona del prato. Quindi ho provato a rimuoverlo tutto manualmente ma ormai i grani erano penetrati in profondità nell'erba e quindi ho deciso di lasciarlo e sacrificare un pezzetto del prato per la scienza. Per dimostrare che se distribuito in maniera eccessiva in una piccola zona provoca evidenti bruciature nel prato. Come d'altronde qualsiasi prodotto ad alto contenuto di azoto. Bene con il nitrofosca super è tutto. Se questa prova vi è piaciuta o vi è stata utile vi invito come al solito a lasciare un like ed iscrivervi al canale per altri contenuti interessanti sul giardino e il giardinaccio. Grazie per aver guardato al prossimo video. Grazie a tutti! Grazie a tutti!